Ciao ragazzi, oggi sono qua per spiegarvi un po' come scaricare giochi indie horror gratuitamente senza download allora intanto bisogna andare su internet e bisogna andare, dobbiamo cercare esattamente Kriyu esatto questo qua che vede del primo Kriyu, scritto proprio Kriyu, 93, spazio, channel non il primo perché è il canale youtube ma il secondo vi apparirà questa schermata qua vabbè sopra ci saranno tutte le cose del canale non state a guardare questa ma qua ci saranno tutti i giochi che vorrete scaricare a parte pokemon o alcuni che non ve lo farò scaricare questo qui scaricato ve lo consiglio è molto bello e molto pauroso per chi ama indie horror come me io vabbè io ho preso un attimo uno dove mi sono scaricato adesso per farvi vedere un attimo, ecco questo qua ghoul vabbè cliccate e vi apparirà questa schermata qua voi fate subito download, tanto è gratis non ci sono virus, non c'è niente cliccate e fate poi ci metterà un paio di minuti chiudete e vi apparirà questa cioè vabbè vi apparirà qua aprite allargate e ci sono due file andate sul secondo qua e dovete andare su questo qui che è applicazione voi fate aspettate aprite e niente il gioco si 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 scaricherà eccolo qua si sta caricando consente accesso tanto non è niente di che e poi qua c'è scritto play e lo lo possiamo giocare quando ci pare piace poi questa qui possiamo metterla benissimo qua se ci riusciamo vediamo se lo possiamo mettere no allora goal forest goal scritto così no goal eccolo eccolo qua allora non è niente qua riapriamo riscriviamo goal forest e lo mettiamo qua e dai mettiamo goal 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 ecco non abbiamo c'è finito no 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 questo alcol del mondo quindi così questo questo gioco non mi chiamo adesso è vero giusto scusate non lo farò partire subito, a me non me lo farò partire subito perchè? perchè dobbiamo andare qui dobbiamo farlo partire con questo perchè si caricherà questo e ci sarà consenti dovrete fare poi dopo vi dirà play o quit se non volete giocare e niente per oggi è tutto poi ho messo qua io perchè c'era una nuova serie indie horror quindi dovete vedere si chiamerà incubi nei pc per oggi è tutto con questo video ci vediamo al prossimo video con la mia nuova serie indie horror ciao